Ciao a tutti ragazzi, io sono Massimo e oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo su un video, una partita ragazzi, che è stata qualcosa di estremo. Ieri sera ho fatto una partita a Stronghold e è stata qualcosa di veramente sensazionale ragazzi, voi non immaginate il devasto che ho fatto. Allora intanto vi introduco un attimo ciò che ho fatto e dopo vi lascerò il video con vario montaggio extra. E ho chiamato tipo tre elicotteri, facevano strage, le cose in giro, cioè è stato un devasto, qualcosa di assurdo. Io ero là che saltavo sulla sedia e non riuscivo a capire come mai per caso ero riuscito a fare una partita del genere. Intanto io vi lascio al video che è stata veramente una partita fenomenale e quindi che dire, ci vediamo al prossimo video. Intanto vedevi questa partita che è stata veramente fenomenale. E quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video e bella tutti da Massimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.